La vivibilità urbana, questa illustre sconosciuta. Ci troviamo al quartiere Salinella, Taranto, in via Lago di Monticchio e vogliamo rappresentarvi una situazione che ha veramente dell'incredibile. Queste palazzine appartengono all'arca ionica, ex IACP, e ci sono dei pali della luce. Questi pali della luce li vedete belli sistemati. Uno pensa finalmente alla luce, di giorno noi li vediamo, quindi uno pensa che anche di sera siano illuminati, invece purtroppo, come vedete dalle immagini, così non è. C'è una responsabilità, certamente, dell'arca ionica, dell'ex IACP per intenderci, ma c'è una responsabilità grossa anche dell'amministrazione comunale, perché stiamo parlando di un'area che insiste nel comune di Taranto. Ed è davvero ridicolo vedere che ci siano dei pali belli e pronti, quindi tutto pronto, e poi stranamente la luce non c'è. Avremmo paradossalmente preferito, per assurdo, che non ci fossero, almeno ci sarebbe stata, come dire, una spiegazione. Dice, non ci sono i pali e non c'è la luce. Ma avere i pali e non avere la luce è davvero una caricatura. E questo la dice lunga anche sull'incapacità amministrativa della decaduta, appunto, amministrazione Melucci, che non solo non ha saputo intervenire di suo, ma non ha saputo neanche confrontarsi, sollevare il telefono e, appunto, confrontarsi con i dirigenti, con i funzionari dell'arca. Tanto ci voleva dire, scusate, ma questo è un'area, è un territorio che mi compete in quanto insiste nel mio comune, e dici che cosa sta succedendo, il motivo per il quale le luci non si accendono. E proprio camminando, facendo un giro questa mattina al quartiere Salinella, in questa zona, ci ha affermato una signora che vuole raccontarci qualcosa di importante relativamente, appunto, a questa vicenda misteriosa della luce che manca. Buongiorno, signora. Buongiorno. Allora, praticamente sono sei anni che ci sono state date queste case e sono sei anni che sono stati installati i pali per la pubblica ognuna. Diciamo che, mi perdoni, signora, noi non la stiamo inquadrando perché ci ha chiesto di mantenere la riservatezza per una questione di privacy. Mi scusi. Allora, le dicevo che praticamente sono sei anni che chiediamo la pubblica nominazione all'Arcaionica e al Comune di Taranto, però è come una palla. L'Arcaionica ci manda al Comune e il Comune ci manda all'Arcaionica. Sono state fatte varie segnalazioni agli assessori di competenza, la loro risposta è stata che il problema è su Sist, che i proprietari sono Arcaionica, quindi è l'Arcaionica che deve provvedere all'accensione di questi pali. L'Arcaionica, invece, manda la palla al Comune. La pallina da ping pong? La pallina. Noi abbiamo tanti bambini che la sera giocano in questa piazzetta che purtroppo non è stata completata. Attendevamo i giochi, attendevamo qualcosa, ma ancora non è stata completata. C'è gente anziana che scende per andare alla chiesa la sera e comunque di sera non si può camminare. Mi perdoni, sarebbe stato così bella vederla illuminata, magari anche nella bella stagione, le panchine, un modo per i bambini, per i genitori, per stare seduti e controllare i bambini, ma anche per gli anziani, per godere un po' di aria? Effettivamente i problemi sono questi, perché comunque ci hanno dato questa piccola aria, non finendola né con i giochi né con la pubblica illuminazione. Quindi ci sono le persone anziane che possono incommere in cadute, in buche, che comunque ci sono tante buche. Stiamo mostrando a ogni piesso spinto. La pulizia mensile non viene effettuata, che poi tra l'altro se vediamo la centralina l'abbiamo proprio di fronte. Signora, voi vi siete rivolti, dicevamo, all'amministrazione comunale, ai vari assessori al ramo, ma nessun risultato? Nessun risultato, non è un anno o due, sono ben sei anni che noi viviamo in questa situazione. Se si dice che il recupero di queste zone, se non si incomincia a recuperare dal comune, come si vuole che comunque si vada avanti? Se progettano, portano avanti dei lavori, ma poi non vengono finiti? Oltretutto, questa situazione di buio, purtroppo, apre il campo alla criminalità, episodi di criminalità e quindi sicurezza zero. A prescindere dalla sicurezza zero, noi abbiamo dei bambini che non possono usufruire della piazzetta perché c'è poca luce. Giustamente noi i bambini li dobbiamo far salire su prima che diventa buio perché se corrono con la palla possono essere investiti perché non si vede completamente niente. Quindi ci rivolgiamo nuovamente agli assessori. Non ci sono più, al commissario a questo punto. Vediamo se il commissario riesce a fare qualcosa, dato che in sei anni ci siamo rivolti al comune e agli assessori senza avere nessun risultato. Bene, ringraziamo la testimonianza e il contributo della signora. Vedete, io potrei parlare da oggi fino al 2050, ma la voce dei cittadini è molto più efficace e significativa. L'amministrazione Melucci, un'amministrazione politicamente e amministrativamente, un'amministrazione del nulla e questi sono i risultati. Il buio assoluto, quattro anni e mezzo di buio, buio fisico e buio amministrativo. Grazie a tutti.